Sicuramente sono partite al nostro livello, è la prima volta da quando siamo in questo giro che ci capita di fare queste qualificazioni. Da quello che conosciamo la Grecia sarà sicuramente quella più dura perché è l'unica con cui abbiamo giocato che ci abbiamo perso. Al resto sicuramente non saranno una passeggiata, quindi vedremo come andranno. Venite da diversi giorni di raduno qui a Chieti, nella casa della Pallamano, che indicazioni sono emerse e com'è il morale della squadra? Il morale è abbastanza alto, vogliamo vincere, vogliamo portare a casa queste qualificazioni, siamo abbastanza contente di come abbiamo lavorato. Le indicazioni sono state soprattutto sulla velocità, rimesse veloci, spingere seconde fasi, quindi proveremo a portare il nostro gioco su questo. Per quanto riguarda il gruppo avremo le nostre assenze, ma sicuramente cercheremo di farle pesare il meno possibile. Tre partite in tre giorni è chiaro che anche da un punto di vista fisico bisognerà stare attenti a dosare le energie. Sicuramente sì, però diciamo che siamo abbastanza a tutto lo stesso livello, quindi anche il fatto di girare tutte quante, anche con le giovani, secondo me ci danno una grande mano, quindi riusciremo bene o male a rimanere sullo stesso livello anche con i cambi. L'ultimo passaggio per quello che ha riguardato il finale di stagione, tu hai chiuso la stagione con la maglia della Mechanics Sistemo Terzo, sconfitta in gara tre di finale Scudetto contro la Iomi Salerno, una sconfitta che anche a distanza di settimane brucia ancora un po'. Brucia ancora un po', sì, però diciamo che a distanza di tempo tutto rimargina, quindi piano piano stiamo lavorando, cioè sto lavorando anche su questa sconfitta e spero di vincere adesso con la maglia dell'Italia. Grazie. Grazie.